4 Scudetti, 1 Supercoppa Europea, 1 Champions League e 3 Supercoppe Italiane. Questo è il bottino di Fabio Cappello da allenatore del Milan. L'allenatore friulano raccoglie l'eredità di Arrigo Sacchi nel 1991. Dopo il ciclo segnato dai trionfi di Barcellona, di Vienna, dello scudetto vinto in rimonta sul Napoli, Arrigo Sacchi lascia alla fine della stagione del 90-91 per andare a allenare la nazionale. Il Milan, reduce dal ciclo di Sacchi, è un Milan stanco, sfiancato, seppur molto vincente. Silvio Berlusconi decide di sostituire Arrigo Sacchi, una sostituzione bella pesante, con un uomo di Fininvest, Fabio Cappello. L'allenatore friulano è alle dipendenze del Milan, infatti già da qualche anno si occupa della parte menageriale e della polisportiva che Berlusconi ha messo in piedi con le squadre anche di hockey e di rugby targate Milan. Cappello è stato infatti anche allenatore delle squadre giovanili del Milan, prima la Berretti, poi la Primavera vincendo anche una Coppa Italia di categoria. Nella stagione 86-87 subentra poi da allenatore a Nils Lidl in Serie A. Nelle ultime sei giornate porta il Milan alla qualificazione in Coppa UEFA, ottenuta dopo lo spareggio vinto con la Sampdoria a Torino, 1-0 dopo i supplementari, gol di Massaro il 23 maggio 87. Dopo essere rientrato dopo quella qualificazione alla UEFA nella polisportiva Milan come detto all'inizio nel 1991 il grande salto, gli viene affidata la panchina di primo allenatore del Milan. In rosso nero Cappello aveva già giocato nell'ultimo periodo da giocatore della sua carriera, dal 1976 al 1980 vincendo insieme a Franco Baresi da compagni di squadra lo scudetto del 1978-79, il decimo quello della Stella. Cappello viene accolto subito come uno yes man, un uomo di Berlusconi, uno che farà quello che gli dice il presidente, ma mai niente di più falso. Cappello non è mai stato molto affezionato a quel soprannome che gli è stato dato, sergente di ferro, ma era ovviamente un allenatore inflessibile, non era certo amico dei giocatori come poteva esserlo Ancelotti e pretendeva dai suoi il massimo impegno. Cappello fa subito ricredere gli scettici perché infila tre scudetti consecutivi, il primo anno, stagione 91-92, il Milan vince il titolo dopo quattro anni di digiuno addirittura senza neanche perdere una partita. 22 vittorie e 12 pareggi. Nel 92-93 arriva il bis, poi anche la finale di Champions League contro il Marsiglia a Monaco, persa dopo aver vinto tutte le partite filì disputate in Coppa dei Campioni del Milan che perse solo la finale con quella rete di Basil Boli, come ricorderete. La grande stagione però è quella del 93-94 dove il Milan infila il terzo scudetto e centra la coppiata Champions League, campionato battendo il Barcellona 4-0, ad Atene. Pochi giorni prima della finale di Atene il Milan gioca a Firenze un amichevole contro la Fiorentina che è reduce dal campionato di Serie B che l'ha vista promossa e al ritorno in Serie A per la stagione successiva. Succede l'incredibile perché i Viola vincono 2-0 e Marcel Desailly gioca centrale difensivo. Alla fine di quella disastrosa amichevole, alla vigilia di una finale contro il grande Barcellona di Cruyff, Cappello dice ho capito quello che devo fare. Abbiamo le idee chiare per Atene. Squalificati Costa Curta e Baresi Desailly dovrebbe giocare in difesa ma la prova di Firenze non lo promuove. Desailly viene messo a centrocampo e in difesa giocano Tassotti, Panucci, Galli e Maldini. Il Milan vince 4-0 contro il favoritissimo Barcellona, l'impresa più bella sicuramente dell'epoca Cappello al Milan. La stagione che cambia le carte in tavola però è quella della 1994-95 e ne abbiamo già parlato qui con un altro video. Il Milan parte male in campionato, perde la finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo contro il Velez dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, magra consolazione in estate. La seconda parte della stagione prosegue bene. Il Milan va avanti in Coppa, centra la qualificazione in UEFA in campionato e arriva alla finale di Vienna in Champions League contro l'Ajax di Rijkaard, ex di turno. La stagione finisce con un velo di malinconia perché la finale di Champions League la vince l'Ajax e il Milan come detto si qualifica alla Coppa UEFA ma non è praticamente mai stato in lotta per il campionato. Cappello avrebbe pronto un rinnovo del contratto con il Milan fino alla stagione 98-99 ma il Milan nella persona di Adriano Galliani e ovviamente di tutta la società gli impone delle clausole. Nel contratto sono specificati degli obiettivi da raggiungere ovvero durante la stagione 95-96 il rinnovo sarà operativo se a maggio del 96 Cappello vincerà lo Scudetto. L'allenatore friulano dopo tutti i bei risultati conseguiti non accetta che il Milan metta delle clausole ancora con nuovi trofei da raggiungere e che la società insomma non gli dia la fiducia che lui ha meritato sul campo. Ne seguono voci, rumors e grande attenzione da parte dei giornalisti per tutta la stagione. Cappello vincerà lo Scudetto nel 95-96 il quindicesimo del Milan e parlerà sempre di uno Scudetto particolare dove quest'anno ci si teneva particolarmente a vincere soprattutto lui in persona. Il motivo era ovvio, Cappello voleva dimostrare pur andando via e avendolo già deciso in cuor suo di andandosene lasciando comunque una vittoria sul tavolo. Il 28 aprile 1996 il Milan vince matematicamente lo Scudetto battendo 3-1 la Fiorentina a San Siro. Negli spugliatoi Cappello e Berlusconi vengono intervistati. Nella sua testa Cappello ha già accettato la corte del Real Madrid del presidente Lorenzo Sanz e Berlusconi parla di un incontro che avverrà il martedì successivo, quindi dopo due giorni da quello Scudetto, nella sua villa ad Arcore per cercare di fare il punto e tentare di far restare Cappello. Cappello di quell'incontro ha detto che Berlusconi gli aveva offerto qualsiasi cosa, aveva fatto tantissima pensione insieme a Gagliani per cercare di farlo rimanere, ma Cappello non voleva passare da capro espiatorio. Il perché lo spiega direttamente lui quando pochi giorni dopo a Milanello dà l'addio al Milan in questo modo. Quando hai deciso di lasciare il Milan? A maggio l'altro anno. Perché? Per la prima volta mi è stato proposto un contratto con Klaus. Non basta la maglia del Milan per vincere. Se si pensa che basti la maglia del Milan per vincere, quest'anno c'erano sei squadre che lottavano per vincere. Allora se il Milan ha l'olio benedetto in testa e pensa di vincere sempre, io credo che questo sia una considerazione giusta. Bisogna considerare quello che uno vale e quello che uno fa. Allora si cercava un capo espiatorio. Allora io non faccio capo espiatorio. Ma Fabio, questo Milan che è nato in questi ultimi tre anni soprattutto, era la più forte squadra italiana? Nella maniera più assoluta no. Perché? Perché secondo me c'erano delle altre squadre più forti. In merito di chi? Se avete vinto. Tutti. Di tutti. Del gruppo, della società, dell'allenatore, della squadra, della cosa che abbiamo mai immolato. Però sicuramente questa non era la squadra più forte. Capello dunque accetta la corte del Real Madrid. Arriverà Panucci, arriveranno Roberto Carlos dall'Inter, scartato troppo in fretta dai nerazzurri, e il Real Madrid porterà a casa la Liga. Ma un anno dopo quell'ultimo scudetto con il Milan, quindi nell'aprile del 97, anche con Lorenzo Sanz i rapporti non sono idilliaci. Capello accusa la società di non avere madridisti in poltrona. Dice sono più madridista io di certa gente che sta nelle poltrone dirigenziali. E accusa il presidente Sanz di avergli fatto firmare una penale di 20 miliardi in caso di passaggio al Barcellona. Sanz accusa Capello di aver fatto filtrare alla stampa delle conversazioni private e di avere un contratto con il Milan già firmato da tre mesi. Anche la piazza madridista non sopporta l'atteggiamento di Capello. Gli danno del bullo e gli dicono di andarsene a casa. Vuoi o non vuoi, sia come sia, Capello comunque al Milan quell'estate ci tornerà. Il Milan nel frattempo senza Capello è andato direi piuttosto male. Undicesimo in campionato nella stagione 96-97 con l'onta dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Rosenborg. L'avvicendamento in panchina fra Tabares e un altro cavallo di ritorno a Rigo Sacchi che però non riuscirà a riportare in Europa la squadra. La parola d'ordine è rifondizione. Stavolta Capello viene data carta bianca. Capello fa fuori tutta la vecchia guardia via Tassotti, via Baresi, via Marco Simone parcheggiato al Paris Saint Germain e anche Roberto Baggio racconterà di un colloquio avuto con Capello che già nelle prime parole sembrava un colloquio destinato a finirsi nella maniera più ovvia ovvero Baggio lascia il Milan e andrà al Bologna. A proposito dell'addio di Franco Baresi c'è una versione anche molto importante raccontata in questo libro, Nella Fossa dei Leoni, il libro della storia del grande gruppo rosso-nero in curva sud dal 1968 al 2005. Sul libro viene data una versione molto chiara. Quello che si muoveva sotto il pelo dell'acqua era un Fabio Capello che avendo avuto carta bianca per la rifondazione aveva deciso semplicemente che il capitano non rientrava più nei suoi piani, nonostante questi fosse più che disponibile a giocare un altro anno. Si stava prospettando dunque una situazione assurda dal nostro punto di vista. Non era il capitano a scegliere di smettere ma la società che non interveniva è Capello a decidere per lui. Paolo Maldini ovviamente prende i gradi di capitano da Franco Baresi mentre resta anche Dejan Savicevic semplicemente forse perché non gli viene trovata una sistemazione poiché anche lui era sulla lista dei partenti. La lista degli arrivi è clamorosa. Dall'Ajax arrivano Bogard e Kluivert dopo che il loro compagno di squadra Reitziger la stagione prima aveva faticato non poco ed era stato mandato al Barcellona. Dal Bayern arriva Christian Zige tedesco di sicura qualità mentre dal Le Havre in Francia arriva un curioso personaggio platinato che si chiama Ibrahim Ba. È un galoppatore della fascia, personaggio un po' eccentrico e io il 13 settembre del 1997 ero a San Siro quando segnò la rete del provvisorio 1-0 alla Lazio l'unico suo gol in maglia rossonera. Dal Vicenza arriva Gian Piero Maini, Vicenza che aveva vinto due stagioni prima la Coppa Italia e che in quell'anno era arrivato addirittura in semifinale di Coppa delle Coppe. Mentre dalla Svezia, dal Göteborg arriva Andrea Sanderson che aveva giocato contro i rossoneri nella stagione precedente in Champions League. Anche la stagione 97-98 per il Milan sarà un disastro. I rossoneri arriveranno decimi e perderanno la finale di Coppa Italia contro la Lazio facendosi rimontare all'Olimpico dopo l'1-0 firmato da UEA a San Siro. Il punto più basso il Milan di Cappello lo tocca il 3 maggio perdendo 5-0 all'Olimpico contro la Roma con i tifosi che nel settore ospiti se ne vanno nell'intervallo della partita. Anche il secondo addio del Cappello al Milan è più amaro, se vogliamo, del primo. Cappello accusa la società, nelle persone di Galliani e Berlusconi, di essersi accordati con Zaccheroni prima di dirlo allo stesso tecnico. Non merito di essere trattato così, dice. Ma scoppia una polemica anche fra lui e Paolo Maldini. Reo di aver lanciato delle accuse sui giornali dell'allenatore che risponde io le accuse le dico in faccia ai giocatori. L'allenatore non conta l'80%, conta il 25% e anche i giocatori che vanno in campo devono prendersi le loro responsabilità. Nel frattempo il Real Madrid con Ju Paikis in panchina veleggia verso la conquista della Coppa dei Campioni dopo 32 anni di digiuno. I madridisti battono la Juventus ad Amsterdam il 20 maggio 1998 grazie a un gol di Predrag Mijatovic e viene chiesto a Lorenzo Sanz se è possibile un ritorno di Cappello a Madrid. Ma Sanz è irremovibile, dice Cappello non tornerà a Madrid, è stato lui l'anno scorso a rompere il contratto per andare al Milan. Gli auguro le migliori fortune ma al massimo lo posso invitare ad Amsterdam per la finale. Una stagione che doveva essere di grande rinnovamento e di ritorno alla vittoria per il Milan dopo la stagione buia precedente si trasforma in un altro fallimento. Cappello ovviamente lascerà il Milan, al suo posto arriverà Zaccheroni che riporterà a San Siro sponda rossonera lo scudetto il sedicesimo. La chiusura della vicenda la dà proprio Paolo Maldini nei giorni di festa per il titolo conquistato. Qualcuno l'anno scorso ci dava per finiti. Gli dedichiamo questo scudetto. Facile dire e capire chi era il destinatario di quel messaggio.